Penso che lo svolgimento di questo tema che ormai dura da qualche giorno e durerà ancora per molto, fino alla noia, perché io quando faccio una cosa la faccio in maniera continua, profonda, martellante, e vorrei rispondere a una professoressa che, se vista in estate, doveva essere professoressa perché mi sembra che si sia fermata addirittura con prof. Penso, se non era uno scherzo, perché ha fatto una critica nei miei confronti dicendomi che sì, mi occupo di tante cose, soprattutto sociale, ossia di tutti, ma che il mio difetto è che non vada a fondo. Allora, per quanto concerne tutti i punti, noi dobbiamo prendere tutte le sfaccettature di questo tema e dobbiamo parlarne, perché il fatto è perché non si parla Giuliano e poi il diretto interessato si tiene alla larga di certi, discorso di certe risposte mi sembra non giusto. Allora io vorrei rispondere a questa professoressa che non ricordo neanche nel nome e cognome, se non ho tolto addirittura l'amicizia o è stata lei a togliermi l'amicizia, qualcosa sarà successo sicuramente, ma forse mi ha tolto l'amicizia e ha fatto bene. Questa tizia che forse non meritava in mano neanche un libro stracciato, mi ha detto che un tipo come me si occupava di certi fatti più o meno giusti, più o meno vaghi, come era nel modo di dire, di dire e non dire, bisognava capirla tra le righe come i grandi poeti, questa professoressa, ma che il mio torto, il mio difetto, diciamo macroscopico, voleva dire lei, era che tocco soltanto degli argomenti molto superficiali che non vada a fondo. Allora vorrei dire a questa signora qua che ha sbagliato proprio individuo, se io sono uno che non va a fondo è forse perché lei non ha capito neanche un libro stracciato che ha avuto tra le mani, perché se avesse capito qualcosa di ciò che ha studiato avrebbe forse capito l'individuo che ha davanti in questo momento e che ha avuto davanti per molto tempo prima di togliermi l'amicizia e ha fatto benissimo e consiglio a tutti coloro che non amano il mio modo di pensare, di dire, di criticare, di svolgere questa attività mentale, culturale, come la volete chiamare, di togliere immediatamente l'amicizia e la professoressa l'avrà tolta sicuramente perché non l'ho più vista né sentita. Però voglio rispondere a lei e a tutte le persone che la pensano come lei. Io non solo che quando faccio una cosa la faccio fino alle estreme conseguenze, perché sono stato educato così da me stesso, da me medesimo, direbbero i poeti, da me medesimo, non da qualcuno, perché fosse dipeso da mia madre onestamente io non avrei toccato neanche i libri perché lei da brava campagnola amava la campagna e tutto quello che era scrivere, leggere, anche se lei era brava a scuola ma fece soltanto fino alla terza elementare, era un qualcosa in più, qualcosa di superfluo, qualcosa che se c'è c'è, se non c'è ancora meglio, così, perché lei mi voleva indirizzare verso la campagna ma non c'è riuscita, lei mi voleva indirizzare verso tante cose, soprattutto mi ripeteva sempre, Antoni Uzzo, fatti i cazzi tuoi, ma io i cazzi miei non me li sono mai fatti forse, perché io penso che chi si fa soltanto i cazzi suoi già ha tanto di quel sentimento mafioso dentro di sé che non lo potrà fermare con l'andare del tempo, se avete capito bene quello che dico, quello che pensa sempre ai propri cazzi è un mafioso latente, se non poi aperto, che lo dimostra nella vita, perché pensa sempre ai cazzi suoi e il malavitoso pensa sempre ai cazzi suoi e mia madre mi diceva sempre, Antoni Uzzo me lo diceva in dialetto, io ve lo dico in italiano, pensa ai cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi che vivrai cento anni, grazie a Dio io ho già quasi 70 anni e li ho vissuti, nessuno mi ha sparato eppure non mi sono mai fatti i cazzi miei, non che mi sono fatti i cazzi degli altri, ma i cazzi di tutti, è diverso, ci sono i cazzi di tutti, i cazzi propri e i cazzi di qualcuno, allora quando uno si fa i cazzi di qualcuno non è una cosa giusta, la andiamo quasi nell'illecito, ma quando uno si fa i cazzi di tutti è un dovere oltre che un diritto per un cittadino e ripeto a questi signori, a quella professoressa che la pensano in questo modo, di avere sbagliato proprio individuo, perché se lei vuole sapere perché non le garbavo, glielo posso dire subito, perché non mi occupo di certi imbrogli, soprattutto paesani, già che lei ne ha conoscenza e sa i fatti di questi imbrogli, come sono andati e giustamente non parlando di queste cose, uno pensa di essere superficiale, invece la professoressa non sa che se lei sa 10, io so 110 dei fatti di Giuliano, ma non cerco di metterle queste cose sul tavolo, sa cara professoressa per quale motivo, perché dovrei dimostrare dalla A alla Z tutto ciò che dico e queste pezze d'appoggio, queste come volete chiamarle, queste realtà non ce le ho a portata di mano e quando si parlano di certe cose serie, molto serie, si deve sempre dimostrare ciò che si dice, ecco io mettiamo per dire alla professoressa non sono tanto d'accordo con i collaboratori di giustizia, perché i collaboratori di giustizia dovrebbero dire e dimostrare ciò che dicono, non so se mi sono spiegato, perché dire quello che in quel momento vuole sentire un tizio o tutti coloro che rappresentano la giustizia non penso che sia una cosa giusta, un collaboratore di giustizia dovrebbe prima di dire dimostrare ciò che vuole dire, allora sì che diventa un collaboratore di giustizia, ma siccome certe volte quando si dicono dei fatti gravissimi e io come tante altre persone ne sappiamo di questi fatti gravissimi, ma questi fatti gravissimi non si possono discutere, parlare così apertamente, perché prima di dire un fatto gravissimo si deve dimostrare il fatto che è successo, di cosa si sta parlando e purtroppo molte volte non lo si può dimostrare questo fatto perché è passato, perché non ci sono più testimonianze, perché non ci sono pezze d'appoggio, perché non ci sono fotografie, filmate, non c'è niente e pertanto una cosa che può sembrare gravissima, che è gravissima, può essere in certi momenti accettata da quella che si chiama giustizia non va così, non funziona così la giustizia, cara professoressa, perciò se lei pensa che io sia un tipo superfluo, lei si sbaglia di grosso perché se lei sa dieci cose anche illegale le saprà perché in mezzo agli intellettuali che siete voi parlate soltanto di queste schifezze io di schifezze ne so il 110% è di Giuliano per giunta, però non mi permetto di dire niente, non perché ho paura perché io non ho paura di morire, immagini con chi sta parlando lei, professoressa, e se lei ha studiato quattro libri stracciati ne ha incontrate di questi tizi che non hanno paura di morire, però queste persone che non hanno a volte paura di morire amano una grande cosa, la verità, e la verità la si deve solo dimostrare, per dire che una cosa è veritiera non lo devo dire io, lo devono dire i fatti, è come quando noi parliamo della Svizzera, è inutile che esaltiamo la Svizzera è inutile che la Svizzera dica noi siamo i primi del mondo dal punto di vista del traffico ma loro possono anche starsene zitti, muti, come fanno a Giuliano, ma là sono i fatti che parlano ma anche a Giuliano parlano i fatti, tutti fatti da schifo, mentre in Svizzera parlano i fatti quelli veri, quelli da esaltare perciò quando si tace a volte su certe cose terribili vuol dire che non si possono dimostrare tutte le cose che si sanno o che uno ha visto, ma se uno poi ha delle immagini registrate, delle voci registrate, dei dialoghi può mettere su delle fotografie, parlare anche di fatti gravissimi, allora a quel punto è in diritto, in dovere come cittadini di mettere a conoscenza certi fatti che poi la giustizia voglia prendere in considerazione o non voglia prendere in considerazione è tutto un fatto così facoltativo, però quando si deve parlare di qualcosa di grande, di serio non si può uno sparare la posa dietro certe battute, non lo può fare mai, io non mi sono mai permesso di fare queste cose io quando ho sentito quella cosa l'ho capita perfettamente cosa voleva dire la professoressa ma non è che mi sono incavolato, quella professoressa che si firma prof pure mi ha fatto tanta tenerezza, lei, la figlia, il marito, tutta la tribù e sicuramente in quella famiglia comanderà lei la professoressa, questo è successo prima dell'estate questo fatto, io ne ho parlato poco perché non ho dato tanto risalto, però vorrei dire a questa professoressa, entrando ora nel tema perché Giuliano è silenziosa quasi da cimitero, quasi da tomba, proprio un silenzio tombale perché i tipi come la professoressa che dicono di essere profondi non dicono un cazzo non dicono niente perché poi ho visto quello che ha scritto la professoressa e parlava non so di fantapolitica ha detto quattro cazzate e si è ritirata in buon ordine certo perché si è messa prof davanti come dire non mi giudicate io sono la professoressa io invece ti dico cara professoressa che non meritavo neanche un libro stracciato uno, quello stracciato è più stracciato che c'è, non lo meritavo in mano perché purtroppo ne hai fatto un cattivo uso io non mi sono messo mai un titolo davanti, ne me ne metterò uno però lotterò per certi principi e lo si vede, nessuno può dire però ripeto che se io non vado a fondo in certe cose perché purtroppo per andare a fondo in certe cose bisogna anche portare avanti delle verità verità dimostrabile, non che devo dire io che quella cosa è vera la verità ha le sue gambe e se la verità non si presenta prima delle parole non è verità ecco perché non sono d'accordo con i collaboratori di giustizia io ascolto migliaia di processi e soprattutto centinaia di collaboratori che mi fanno ridere mi fanno ridere che certe volte hanno detto una cosa nel 2012 la stessa domanda gli viene fatta a quel tizio nel 2015 e risponde in un altro modo e sapete cosa dice? sì procuratore forse ho risposto in quel modo perché allora i fatti di 5 anni fa, di 4 anni fa erano più freschi e ora invece che hai risposto tutta un'altra cosa che era un altro fatto però la cosa va avanti perché alla giustizia in quel momento va bene così perché la giustizia che intendiamo noi è come dire vediamo quello che possiamo prendere quello che ci conviene, che ci conviene ad avvocati, presidenti, tutti, procuratori quello che serve al momento, quello che non serve lo pigliamo e lo mandiamo via e poi la giustizia se parliamo della giustizia come possiamo dire io certe volte ho molti dubbi della giustizia perché dico molti dubbi? sempre nel tema perché si deve parlare nella vita una cosa che qua mettiamo non se ne parla affatto qua tutti i politici mettiamo tutti hanno paura di parlare peggio dei giulianesi ecco perché non sono d'accordo con la giustizia italiana perché io conosco migliaia di processi e sappiamo che centinaia e centinaia di processi non solo non si sono realizzati ma non si è capito come è finito non si è avuto un risultato, una sentenza definitiva e ne abbiamo anche gravissimi di questi processi perciò io penso che per portare dei processi così fuori rotta o farli andare verso la rotta che interessa a qualcuno dei processati giustamente ci deve essere anche l'appoggio e l'ausilio di certi giudici soprattutto di certi giudici è mai possibile che non ci sia mai stato un giudice in Italia che abbia confessato o denunciato che una settimana prima, un giorno prima, tre giorni prima di una sentenza definitiva gli è arrivata una bella busta ma è mai possibile che a nessuno è arrivata una busta non c'è un giudice che abbia fatto una denuncia nel dire mi è arrivata una busta mi volevano mettere in ginocchio mi volevano ricattare e io non ho accettato non c'è un giudice, io non ne so uno se esistono di questi giudici per cortesia fatemi qualche ditemi qualcosa me ne lasciate qualche scritto, qualche appunto ve lo dico che io non ne ho trovato uno forse non ho spulciato bene ecco perché non credo nella giustizia e allora vorrei dire sempre a quella professoressa se lei sa qualcosa, dato che lei va più a fondo di tirarla fuori questa cosa perché è un peccato che lei sa delle cose profonde di Giuliano e le lascia là vuole che siano altre a dirle queste cose non mi sembra giusto cara professoressa che magari non mi starai ascoltando però è un simbolo ormai questa professoressa dico cara professoressa se mi stai ad ascoltare e sai perfettamente perché io non ti non so neanche il tuo nome più è stato un giorno e poi non l'ho visto più un giorno, un secondo è stata una risposta a un mio video e poi non ho visto che c'è scritto prof se tu sai certe cose sei una persona da condannare perché sai delle cose anche pesante anche profonde come dici tu dato che non ti soffermi alla parte superficiale però non dici un cazzo ecco questo è uno dei tanti punti vedete a che punto si arriva a Giuliano che una persona che non è superficiale che è profonda e che sa tante cose rimprovera a un povero demente Cristo come lo volete chiamare che si occupa un po' dei fatti generali e si vanta nelle risposte di dire tu non sei una persona all'altezza di poter affrontare certe cose perché sei superficiale ma lei che non è superficiale ma è profonda e sa chissà quante schifezze non dice un cazzo avete capito perciò a Giuliano c'è la malafede non è che si è omertosi silenziosi perché si è analfabeti molti sono analfabeti ma molti non lo sono e se non sono analfabeti allora sono dei vigliacchi dei codardi che fanno finta di non sapere o meglio cercano di approfittarne del loro status e di far prendere la serpe alle altre persone rimproverandole pure avete capito come si agisce a Giuliano e come si vive a Giuliano che la professoressa mi rimprovera perché sono superficiale perché tratto degli argomenti terra a terra ma lei che non è superficiale e che sa tanti fatti di Giuliano anche gravi non dice un cazzo magari perché allora se mi rimprovera e dice che io sono superficiale e poi lei è superficiale quanto me non vedo perché mi abbia scritto una cosa del genere ciò vuol dire che lei non è superficiale come me e sa dei fatti anche gravi di Giuliano che una persona dovrebbe andare a fondo io non sono all'altezza per lei ma lei che lo sa che fa non dice niente nessuno ha mai detto niente e allora com'è qua la situazione chi è superficiale questa è la situazione è un discorso molto articolato molto complicato molto intricato e molto anche complesso che bisogna snocciolare lentamente dipanare direbbe qualche poeta perché così non è possibile cioè noi non solo che abbiamo una città dove tutti tacciono ma per giunta c'è chi tace e nel contempo insulta chi sta aprendo bocca che non si occupa di fatti importanti vi rendete conto? e chi sa di fatti importanti o ha visto o ha vissuto dei fatti di un certo livello tace sta zitto avete capito come c'è quello che dovrebbe parlare rimprovera colui che sta dicendo qualche minchiata magari e lo rimprovera etichettandolo per persona superficiale avete capito? comunque noi il tema lo continueremo sarà un tema molto articolato molto confuso per taluni ma andremo avanti il tema è sempre quello perché a Giuliano c'è un silenzio assordante perché tutti tacciono perché non si parla eppure non siamo a Palermo a voi tutti buona serata ma andremo avanti